Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. TTT, Tavolo Territoriale per il Turismo, è l'operazione avviata dalla Repubblica di San Marino che coinvolge Marche, Emilia-Romagna e 109 comuni delle due regioni. Il progetto si propone di creare una rete in grado di coordinare un'offerta turistica capace di valorizzare le comuni eccellenze di un territorio vasto, unico e ricco di opportunità di vacanza, sport e cultura. Lo illustra ai nostri microfoni il segretario di Stato del Turismo di San Marino, Federico Pedini-Amati. Il Tavolo Territoriale sul Turismo nasce per mettere a regime un territorio, di fatto, nell'ambito del turismo che in qualche modo ricomprende due regioni, 106 comuni. Devo dire che si sono giunti altri tre comuni proprio in questi giorni, quindi stiamo diventando ancora più grandi. E qual è l'obiettivo principale? È quello di far vivere i borghi sia in maniera così virtuale, perché stiamo producendo un qualcosa che potrebbe diventare interessante, e gli stessi borghi degli stessi comuni farli vivere anche in maniera virtuale e avere una ricettività turistica di visitatori che magari prima non c'era perché questi luoghi erano poco conosciuti. Non perché gli stessi comuni non fossero stati bravi nel far riconoscere i propri luoghi più caratteristici, ma perché il mondo della comunicazione insegna che quando si rema tutti in una stessa direzione, quindi l'Unione in questo caso fa la forza, ecco, ci sono molte più possibilità di far conoscere un territorio. Devo dire che ho trovato in questi comuni dei luoghi eccelsi, veramente belli, 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 quindi San Marino può fare la sua parte, ma ogni comune, questo lo ripeterò sempre, ogni qualvolta mi capiterò di fare un'intervista, tutti i comuni, dal più piccolo al più grande, hanno delle caratteristiche proprie che vanno fatte conoscere al mondo. E questo è l'obiettivo, semplicemente. Grazie. 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 Grazie.